Un momento di grande promozione della nostra città qui a Sanremo, di fatto con il gruppo folgoristico più importante della nostra città per rappresentare l'assenza del Carnevale di Fano. Abbiamo letteralmente veramente invaso piacevolmente le strade di Sanremo facendo promozione della nostra città e del nostro Carnevale e devo dire grazie a questo progetto della Camera di Commercio che ci ha voluto qua prima a Villa Ormon e poi al centro di Sanremo per la promozione delle marche e della nostra città. Abbiamo letteralmente invaso Sanremo con il getto di dolciumi che caratterizza il nostro Carnevale e con il gruppo folgoristico La Musica Rabita. È stato un momento di puro divertimento per tutte le persone che c'erano a Sanremo e abbiamo fatto conoscere il nostro Carnevale anche qua. Vi aspettiamo domenica.